e buongiorno e buonasera a tutti bentornati sul mio canale io sono asbrad siamo qui ancora con forza horizon 3 il diciannovesimo episodio per questa serie che ci sta comunque appassionando siamo qui con la nostra buggy la nostra ariel che abbiamo un po' tamarrato è veramente brutta però scoppietta ragazzi va bene andiamo a farci subito una gara cominciamo qui nell'outback poi andremo anche a vederci un gioia dimenticato va bene allora allora croazia croazia facciamo la croazia vediamo perché la più vicina poi andiamo a farci una bella garetta ecco 4x4 ha fatto la scelta giusta vabbè la nostra solita ignoranza si deve sempre far riconoscere va bene ah zona di derapata wow ok 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 hai ragione anche tu allora facciamoci questa zona di derapata almeno ci divertiamo un po' e testiamo un po' la guidabilità di questa ariel nomad anche sulle derapata vai e si ciao forse è troppo poco prepotente per fare queste cose no 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 non va bene no niente non ce la facciamo vabbè nuovo record personale ovvio il primo però una stella ci ha dato vediamo eh dobbiamo fare 45.000 punti per 3 stelle no con questa eh ci siamo dentro però io non voglio trovarlo adesso già l'ho dimenticato perché se no veramente siamo siamo qui per fare altro dopo mai però cartello andiamo a spaccarlo cartellone assolutamente si poi ho visto che nel garage è già pronto il gioiello dimenticato che abbiamo sbloccato l'altra volta quindi la prossima volta andremo a trovarlo quest'altro gioiello dimenticato con il nostro gioiello dimenticato allora allora cross country si dai penso che la nostra possa si perfetto ah abbiamo anche la hot wheels che è ok si 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 no 4 wd questa qui la nostra ariel va benissimo dai che ci divertiamo col cross country anche se a me non piace più di tanto il fuoristrada però deve essere divertente dai a fare salti capriole robe varie da stuntman va bene va bene perderemo malamente però almeno abbiamo la 4x4 così abbiamo leggermente più controllo non stiamo lì a pattinare sulla terra sulla sabbia almeno quello dai si tolga lei siamo una gara vaffan bagno ma così e vabbè si è imbarcato si è imbarcato si è imbarcato niente abbiamo già perso la gara una gara sprint quindi abbiamo un unico giro qua tra virgolette non è neanche un giro perché è un percorso però siamo abbastanza prepotenti li riprendiamo facilmente abbiamo sempre il nostro rivale signor trigabu che è sempre lui che ci mette in difficoltà attenzione attenzione l'hanno preso per un pelo anche se speravo di non averlo preso almeno ci faceva tornare indietro rifacevamo meglio la curva però dai e vabbè ciao rip gara niente questa è andata eh l'ho detto che non mi piace molto il fuoristrada ma sta macchina ha un destra-sinistra che è terrificante cioè è troppo reattiva secondo me eh poi si fa si pianta così sulle rocce cioè ma cosa ha fatto cioè spiegatemi perché ha fatto sta roba qui qualcuno mi venga a spiegare la fisica la legge fisica che ha permesso questa cosa su un rettilineo va bene vabbè gli altri ormai ma che cosa no vabbè io voglio rivedermela sta roba qua eh stavamo andando dritti eh vabbè stavolta vado dritto dritto proprio niente ha girato lui gira da sola l'auto va bene eeeh dottor giuseppe forza horizon pensa che con sta macchina ha sbagliato un pochettino la fisica eh niente qua non prendiamo neanche il checkpoint perfetto ci faccio andare un po' più indietro però cioè non è che possiamo mamma mia ragazzi eh l'avevo detto io non è che parlo a caso non non mi ci trovo con il fuoristrada cioè non mi piace proprio anche nella vita reale non sono un appassionato di fuoristrada rally si va bene siamo arrivati undicesimi ragazzi undicesimi vabbè questa gara me la rifarò io per conto mio sicuramente si si no continuiamo non riaviamo intanto mi sta già antipatica sta gara si sta ci ha dato 9700 crede ma com'è sta roba vinciamo e ci danno 10.000 arriviamo penultimi e ci danno 9700 va bene che logica di assegnazione premi allora andiamo a vedere un'altra gara percorso sconosciuto eh si addio vabbè ragazzi fa troppo freddo dai ci vediamo quando siamo arrivati eccoci qui eccoci qui eccoci qui attenzione attenzione eccolo lì grandissimo peccato che non ci abbia dato qualche punteggio ah percorso misto perfetto va bene va bene abbiamo un po' di asfalto un po' di sterrato vediamo come si comporta così malissimo la vedo male la vedo veramente male però dai noi affrontiamo tutto ma questo cos'è un caddy di quelli del golf club va bene si si inizia inizia vai 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 obiettivo di questa gara vabbè finirla giustamente e magari entrare nei primi 5 si dai io direi di stare davanti a trigabu ma mi sembra alquanto impossibile oh siamo terzi dai eeeh beh se ci frena così davanti però va bene comunque siamo primi stranamente c'è qua quadra che non cosa ci ha anche dato checkpoint incredibilmente anche se l'abbiamo saltato va bene eeeh si si signor Giuseppe Forza Horizon va bene allora sono tre giri cioè praticamente abbiamo fatto il vuoto eeeh questa è una cosa che non capisco di questo gioco cioè ci sono delle gare in cui vai malissimo e delle gare in cui vai benissimo con la stessa auto eh non riesco a capacitarmi forse perché questo è il percorso misto invece l'altra era proprio un mezzo alla stia paglia la macchina si imbarcava come pochi però va bene dai ho detto tra i primi cinque siamo primi con largo vantaggio ciao poi il giro è anche corto un minuto più o meno quindi va bene così possiamo farcela vabbè l'ignoranza è ignoranza noi uniamo la prepotenza con l'ignoranza perché senza ignoranza non si va da nessuna parte ovviamente la buona ignoranza è quella sana quella che contraddistingue ho la bocca ghiacciata praticamente fa freddo cane l'ignoranza che contraddistingue le persone pazze di questo mondo gli artisti vabbè basta dire stupidate intanto stiamo andando a concludere anche l'ultimo giro di questa gara che è andata oltre le più rose aspettative ma proprio ben oltre spettacolare veramente qui tagliamo tutto va bene vai vai arriviamo ovviamente così e con stile bellissimo bellissimo grande vittoria allora 9700 grazie grazie 9700 per essere arrivati undicesimi abbiamo vinto vediamo che cosa ci danno ho paura vediamo 15000 va bene va bene va bene dai 15000 netti netti ok stiamo ancora livellando perfetto vai andiamo avanti con l'esperienza bellissimo e comunque quest'auto va conosciuta molto particolare come auto non mi piace comunque però diciamo che possiamo farci magari questo qua dai andiamo a vedere questo percorso sconosciuto e ci vediamo quando siamo arrivati eccoci attenzione frena 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 ok canguro giustamente siamo in Australia cross country di redstone esibizione vai va benissimo vai andiamo con questa ci facciamo quest'ultima gara poi ci salutiamo così facciamo video brevi belli circoncisi eh concisi volevo dire belli vabbè avete capito no vai vai prepotenti come sempre mi raccomando cerchiamo di fare un bel risultato sono tre giri anche qui salto e senta lei se non mi se non mi salta in groppa non sono un cavallo grazie aereo e vabbè no vabbè solo io potevo prendere un aereo giustamente non avrendo mai preso un aereo in vita mia ho detto perché non approfittare non prenderlo di petto proprio anzi di faccia ma che cosa ma come siamo rimbalzati no vabbè assurdo allora stiamo guidando in maniera imbarazzante lo ammetto faccio veramente schifo ma è anche l'auto che non si addice a me poi vabbè io non sono un fenomeno però neanche l'auto non l'abbiamo preso ovviamente no eh figurati va bene si ma ci faccia andare più indietro ma io non capisco questi riavvolgimenti vediamo se riusciamo vabbè se si tanto non arriviamo in zona podio sicuramente anche perché sono tre giri e io non me la ricordo ancora la pista va dritta va bene eh quindi secondo e terzo giro farò gli stessi errori che ho fatto fino adesso quindi però se al traguardo ci arriviamo così belli prepotenti sugli altri va bene ma va dritta o va dritta o si imbarca quindi va destra e sinistra così proprio come se decidesse lei ma in effetti chissà che decide lei attenzione qua non fare gli stessi errori di prima eh se ne è andata lei a sinistra io giravo a destra va bene come vuole lei ecco ma si schiantiamoci andiamo dalla parte opposta della pista ma si tanto noi siamo qui per gareggiare mica per vincere mica bisogna vincere no in una gara bisogna solo partecipare vincere non è importante no è l'unica cosa che conta dai 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 che siamo primi e io questo primo posto non me lo faccio sfuggire cioè io poi la macchina decide lei se vuole ubbidire se vuole vincere una gara magari dice no ma l'abbiamo già vinta prima ma si facciamo vincere gli altri anche no dai che l'abbia staccato incredibilmente io rallento non si sa mai ok quindi siamo andati molto bene rallentando dai arriviamo con stile questa macchina comunque ha dei problemi di stabilità va dove vuole lei dai ci dia dei premi vada vabbè lo sapete ormai oh no l'audi r8 non la voglio non mi piace ci dia dei soldi vabbè vabbè 25.000 van bene dai ci accontentiamo a sto punto era meglio l'audi che vale di più però non l'avrei mai utilizzata quindi si votiamo il design è abbastanza ignorante come piace a noi ok dai allora direi che possiamo terminare qui questo diciannovesimo episodio di Forza Horizon 3 con obiettivo sbloccato mini boss perfetto abbiamo raggiunto il livello 20 abbiamo fatto qualche garetta con questa buggy che non è purtroppo la dune buggy altrimenti ci arrabbiamo sarebbe stato perfetto rossa con la capotina gialla ci vediamo in un prossimo episodio andremo a scoprire il gioiello dimenticato con un altro gioia l'ho dimenticato ovviamente come facciamo sempre quindi vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un mi piace lasciate un commento condividete il video mi raccomando è molto importante e ci vediamo a un prossimo episodio di Forza Horizon 3 un saluto a tutti da Asvrald di Forza Horizon 3 un saluto a tutti di Forza Horizon 3 un saluto a tutti di Forza Horizon 3 di Forza Horizon 3 un saluto a tutti di Forza Horizon 3 un saluto a tutti di Forza Horizon 3 di Forza Horizon 3